Buongiorno a tutti, l'obiettivo di oggi è arrivare fino a Milano a piedi partendo da Castiglia dei Pecchi. Quindi vi chiederete perché, a volte me lo chiedo anch'io perché faccio certe cose, ma facciamo un passo indietro. Sono talmente vestito strano, non è che abbia chissà che cosa addosso, ma scarpe da trail running, i pantaloni della Decathlon da escursione, questa giacca impermeabile, eccetera, e mi guardano tutti i semi. Capisco andare a fare colazione in centro al paese, travestito così, sono girati tutti appunto, va bene. Ma addirittura sul naviglio, dove ci sono persone vestite con colori improponibili per la corsa. A un certo punto persino il cane si è girato e continuava a fissarmi, non voleva andare avanti e continuava a guardarmi. Siamo in via Mecchiore e Gioia a Milano e qui il naviglio va sottoterra e non lo vediamo più sino alla Darsena. Speriamo nei navigli aperti a breve, tutta Milano. Grazie. 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 Sono arrivato in Piazza Vuomo, ho percorso circa 4 ore e meia, con la pausa per mangiare e volevo tornare a casa piedi, ma non posso farvi vedere il gesto dell'ombrello perché c'è tanta gente, ma direi proprio di no. sono abbastanza fiacco quindi prenderò la metro ciao a tutti